Ok, ciao a tutti ragazzi e benvenuti per questo nuovo gameplay di DMC Devil May Cry, qui col vostro Valle 93B. Oggi missione 19, la faccia del demonio. Stiamo contro Mundus praticamente. Eccolo qui, il nostro pelatone cattivone. Te lo chiederò di nuovo. Perché hai ucciso mio figlio? Perché tu hai ucciso mia madre. Ah, allora è stata vendetta. Capisco. Non solo. Eh? È per la libertà. Libertà? Sembra che tu abbia tutta la libertà che vuoi. La libertà di uccidere il mio erede. Non parlo della mia libertà. Parlo di quella dell'umanità. Umanità. E cosa dovrebbe farsene l'umanità della libertà? Quando sono arrivato io l'avevano. E cosa credi che ne abbiano fatto? Combattuto. Ucciso. Sofferto la fame. Io ho portato prosperità. Organizzazione. Tu cosa hai portato? Oltre alla violenza, le guerre, la morte. Coraggio Dante. Devi farlo incazzare. Sai cosa, Mundus? Hai ragione. Non era per l'umanità. Era... Era per vendetta. Devo dirtelo. Uccidere tuo figlio così. Guardarlo esplodere in piccoli pezzi. Sentirti gridare come una delle tue puttane demonieche. Non apprezzo. Oh mio Dio. Bel volo. Così impari a farlo incazzare. Oh mio Dio. Oww. Vai, Virgin. Ok, disattiviamo quest'affare Ahah, adesso il Limbo si è mischiato al mondo reale Mo ti voglio Oh sì, Vergil, bravissimo Guarda la tamarrata che ci deve stare sempre Ecco qua Ce n'hai messa di tempo, prego eh Lundus non è contento E come biassimarlo Godzilla Ragazzi È brutto Possiamo ucciderlo La porta infernale è chiusa Mai Qualche idea Vedi il suo occhio Sì Il suo bambino aveva qualcosa di simile Iniziamo da lì Dobbiamo farglielo aprire Io sono un gus Sei un franzo Ho provato Io cerco di esporre l'occhio Non attaccarlo Rimani vivo finché non esporre l'occhio Oh oh What now Vai Ok Guarda quanto è figo Vergil che lancia le spade D'altro che Dante con le pistoline Eeeh sì, vabbè E vai Da qua all'occhio Ecco Come un moscerino E' una parola Coraggio Andiamo Ottimo Perché il suo corpo era lì dentro? Mundus è unito al suo corpo fisico Ecco perché lo sta proteggendo Allora se uccidiamo il suo corpo Uccidiamo Mundus Dove vai? Ah Ok Ehm Adesso Vergil? Ah Di qua Ok Oh oh Tuoi Sì Sì Se ne vai Oh mio dio Mundus Oh cazzo Oh cazzo What? 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 Ah vai Peccato che Cazzo Cazzo Che è? Wow Come cazzo è? Non posso Non posso Oh mio dio Non posso andarmene da qui? Ehi Ah ecco Ah ecco Vaffanculo Potevate dirmelo prima Farmelo notare Un po' Meno No No Ok Un braccio No 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 Ok Siamo di nuovo qua? Ah Dai Vaffanculo Eh dai Ok Baffanpulo mundus Ovvia Dai Vieni qua vieni Vieni qua vieni Vieni qua vieni Ecco qua Ok Cazzo peccato Troppo difficile Salvarsi da sti attacchi di merda Ecco qua Con questo poco di vita poi Cazzo Eh vabbè addio 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 Dai mundus Usa sempre quel braccino Ah Poi se posso espinger lo peo Vieni qua Vieni qua Oh Grande Dai 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 lanciamene un'altra Oh oh Salve Vieni qua Vieni qua Bello E uno Se ne va Te lo sei meritato dai Diciamocelo Vieni qua Vieni qua Manca solo Manca solo un colpo belli Oh no Oh no Oh no Via Manca così poco dai Non posso morire adesso Non posso Ti è rimasta solo Ti è rimasta solo la testa mundus Ah Ah ecco E Beccati questo mundus Ha ha Epicness is epic Beh Tutto è bene quel che finisce bene no? Tutti sono morti Centinaia di vittime Il mondo in rovina Ce l'abbiamo fatta Io ce l'ho fatta Sì Ce l'abbiamo fatta Abbiamo distrutto una città intera Ah Che bello Il panorama della libertà Dio WTF Ah, che bello! Le persone di tutto il mondo vedono le creature del limbo adesso Demons E qui direte ragazzi è finito il gameplay, è finito tutto, ci vediamo per la prossima serie Invece no gente, invece no! Perché qui andremo a fare il finale nel prossimo video, sapete? Quindi non perdetevelo, mi raccomando, ricordate di mettere mi piace, commentare, mettere nei preferiti se volete perché mi aiuta tanto Iscrivetevi se vi va e un ciao qui dal vostro Vale93BA, ciao!